quindi adesso noi cosa facciamo facciamo su questo piano ok sul piano frontale disegniamo un rettangolino il cui centro è questo per cui facciamo così poi noi trasformiamo poi facciamo c io premo la c perché l'ho associata al cerchio ci conferenza a questo punto prendo questo gli metto tre cerchi e gli impongo l'uguaglianza tra questi tre cerchi per cui c'è uno tengo il control due tre ok a questo punto faccio uguaglia a questo punto io vedi che sono vincolato tra loro a questo punto posso dargli una quota ipotizziamo otto ok a questo punto gli do la mia diciamo bombatura gli dico voglio fare un un arco di cerchio ok che va hai due possibilità o gli fai un arco di cerchio oppure addirittura gli fai un cerchio unico poi prendi prendi le aree per esempio fai ad esempio potessi fare cerchio potrei fare anche un cerchio ok anche un raggio arco per tre punti facciamo arco tangente lo possiamo fare questo qua che va la tangenza ok da qui ok a questo punto fai scusa ho sbagliato per tre punti facciamo un punto un punto lo metto qua poi lo vincolo in questo modo qua no però devo stare attento perché lui ci ha preso questo vincolo qua che non va bene è perché io voglio cancellare questo vincolo qua e allora cominciamo un po gli delle quote per esempio altrimenti tutto fisso questo lo voglio 50 questo qua ipotizziamo che lo voglio 50 mm sì in questo qua lo voglio ipotizziamo 30 mm ok a questo punto posso fare così faccio così faccio così faccio così e gli dico che questo e questo è tangente questo e questo sono tangenti tra di loro ok e poi potrei fare vedi che adesso una volta che ho imposto i vincoli lui mantiene il vincolo di tangenza hai fatto caso per cui adesso io posso dirgli che o gli metto il raggio opzione 1 gli metto un raggio impongo io un raggio oppure oppure opzione 2 potrei fare un'altra cosa potrei dire che da qua a qua io voglio questo lo tengo verticale questo qua lo tengo in tangenza un'altra opzione potrebbe essere poi gli impongo la distanza da qua a qua ci potrebbe fare così ok a questo punto posso anche dirgli che allora posso fare anche ad esempio una simmetria posso dirgli prendo questo prendo questo ok gli dico prendo col control prendo questo elemento prendo questo elemento gli dico simmetrizza specchia prevo d'altra parte esatto a questo punto posso idem fare di qua prendo un arco un arco per tre punti ma posso fare qua fare un punto qui un punto qui ok e poi gli do come vincolo che questo e questo deve essere tangente e questo e questo deve essere tangente vedi che adesso lui ha aggiunto questi due vincoli uno di tangenza e uno di coincidente coincidente sul punto vedi che adesso nel muovere lui rispetta questi vincoli idem come prima o premendo la d gli do un raggio cioè quindi quando gli do il raggio diventa nero per cui è completamente definito fissato oppure anche qua come prima posso dirgli no io non voglio voglio come prima fare qui oppure addirittura potrei fare così prendo il diametro prendo la quota prendo questo premo shift ok con questo e lui mi da la quota che c'è tra la tangenza e il segmento con lo shift senza così non sono obbligato a costruirmi la linea di costruzione chiaro per cui facciamo 10 beh possiamo fare anche questo punto 8 ok a questo punto io gli dico ok questo e questo esatto lo specchi sotto così adesso abbiamo fatto la sagoma dobbiamo estruderla se noi le estrudiamo vedi che ho un po di schizzi o un po di costruzione nel momento in cui tu all'interno di uno schizzo hai più schizzi se fai un'estrusione lui ti chiede in quest'area qui le aree che tu vuoi estrudere quindi io gli dico potrei estrudere solo quest'area volendo potrei estrudere solo questa supponiamo non sai vedi ti faccio vedere o solo quella centrale vedi ti faccio vedere vedi non sei obbligato io per comodità voglio estrudere che cosa ritorno qua nota che tra l'altro quando ci clicchi sopra questa area diventa blu dire che il focus è qua vuol dire che tutto quello che viene selezionato va all'interno qui per cui fai io voglio questa voglio questa voglio questa voglio questa questa poi se primi la barra spazzatrice lui si mette normale è comodo lavorare in modo così lo schizzo è parallelo allo schermo ok a questo punto fai così fai così fai così fai così fai così pom a questo punto gli dico di quanto vuoi estruderla ipotizziamo 25 mm o anche 30 mm confermo ok a questo punto io posso fare un bel salva salva prova 1 ok a questo punto io devo vedo che forse è un attimino più alto sto osservando se vuoi modificare la quota è sufficiente cliccare sopra la funzione ti compare ti compaiono le quote che governano io questo qua in realtà non voglio farlo 30 ma voglio farlo 60 ok a questo punto posso dirgli che cosa che questo raggio vedi questo spigolo qua lo voglio un raggio sopra quindi hai due possibilità o prendi la faccia e poi gli dici raggemela vedi lui ti fa un raggio 10 oppure altra possibilità ti selezioni il bordo tutti i bordi poi tra l'altro puoi fare anche una cosa magari se tu premi la v va in wireframe tra l'altro fai finta che tu vuoi fare i raggi qua dietro però tu non li vedi schiacci un v e li vedo esatto schiacci v li vedi e nel momento in cui li vedi puoi anche selezionarli così ti evita il problema di girarlo per cui a questo punto fai io voglio fare il raggio sotto per cui faccio beh si può fare così eventualmente quindi fai vabbè allora facciamo control 1 io metto qua faccio un raggio un raggio 10 mi sta bene confermo ok adesso noi faremo il foro qua dietro lo giriamo di qua ok lo scaviamo per questa distanza qua e ipotizziamo che da qua ci sia 10 mm ok perché cosa fai su questa faccia ok gli fai uno schizzo ok che schizzo gli fai io voglio diciamo un offset costante di un millimetro ok perché mi sembra io pensavo di farlo così non è l'unica strada sì quella che mi sembra più veloce fai un offset vedi lui fa un offset di tutto però invece no lo voglio fare in direzione contraria di quanto di un millimetro punto 5 mettiamo confermo vedi che lui adesso ti ha fatto un offset rispetto al bordo di un millimetro costante sì e telate e se tu un domani cambi queste quote lui farà sempre l'offset di un millimetro e mezzo a questo punto la vuoi scavare per quanto ipotizza di 10 mm per cui premi la j perché io l'ho associato con j con taglio estruso vedi che è j taglio estruso di quanto lo vuoi estrudere io la voglio estrudere di 10 mm o anche 15 vedi confermi e così abbiamo cominciato a scavarlo dentro siamo arrivati qua a questo punto ci interessa fare ad esempio un foro ok il foro vedi che hai due possibilità quali fare il foro o usi ti metti qua normale alla faccia su questa faccia io due possibilità stavo dicendo o usi questa creazione guidata fuori che ti dà tutta una serie di fori quelli che sono che vanno per la meccanica quindi sono delle lamature delle svasature dei filetti spine esatto oppure se dici no a me questi fori non vanno bene perché il mio foro ha una sagoma strana ricavata da tornio allora ti conviene utilizzare non questo cioè non usare le furature standard quattro altro danno anche le furature con tutta roba iso per cui le vi se per esempio vi fare ti faccio un esempio rapido se per esempio tu vuoi mettere una vita m8 ok e tu gli dici io voglio una lamatura per m8 lui va a calcolarsi quante grande la lamatura quanta la profondità per cui fai per esempio posizione e decido ve chiaramente e poi dici confermi vedi e lui ti fa una farà una 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 lamatura e il qui siccome è un m8 questo diametro quattro te lo farà 9 ok dopo ti fa la distanza dal dal fondo della testa a qua a primi m scusa per misurare il primo m ok per cui m per cui fai così tam parti 8.6 perché la testa verrà incassata di 16 mi rispetto a questo piano ok però ti può succedere che io dico no io non voglio una lamatura voglio un foro normale come si fa a farlo semplicemente ti metti qui ti metti adesso se premi shift hai una cosa se allora vedi questi tre tasti allora se premi shift loro ruotano vedi allora f prima allora come funziona qua se premi la y va normale la y viene contro di te vedi x viene contro di te se tu premi ad esempio shift lui ruota in senso orario guarda rispetto alla y vedi in senso anti orario scusa beh dipende dove lo guardi ok se invece premi contro il shift lui ruota in senso opposto ok a questo punto noi cosa vogliamo fare vogliamo prendere questo e stavo dicendo una sagoma di tornitura prendo questa faccia qua ok mi metto normale alla faccia ok per cui è come adesso e dopo su questo piano gli faccio uno schizzo gli faccio un asse di rotazione quindi faccio linea uno schizzo devo controllare che sia qua per costruzione per cui adesso faccio qui pam pam ok a questo punto vado in il frame ma per comodità per cui q q colorato v y frame a questo punto io gli do il mio schizzo il mio schizzo lo posso far partire qui tranquillamente per cui io non so voglio fare una sagoma di tornitura la voglio fare così poi la voglio fare così poi magari voglio andare giù così vuoi andare giù così esatto questo qua è in modo arbitrario a questo punto posso fare così posso fare così posso fare così ok a questo punto io posso dire ok taglio in rivoluzione che cosa voglio tagliare vedi che io qua gli posso dire l'area che voglio tagliare vedi la linea è questa e l'area è questa per cui fai taglio in rivoluzione scegli questo ok e poi fai confermi e dopo puoi controllare ecco dopo quando fai la sezione qua hai tutti i vari pulsantini che ti permettono di vedere la sezione qua di là ok no ok a questo punto potreste fare così fare così fare così fare così ok a questo punto abbiamo fatto diciamo il tappo si potrebbe anche adesso questo lo lasciamo in questo modo facciamo l'altro corpo per fare l'accoppiamento poi ok ok per cui l'altro corpo qua chiudo faccio nuovo per fare l'altro posso riutilizzare questo in che modo tanto la sagoma esterna è uguale per cui faccio un salvo con nome faccio così guarda vado qua salvo con nome salva come copia e apri salvo come copia e apri però devo dargli un nuovo nome prova 2 ok questo è un altro adesso io torno un attimo indietro perché in realtà io questo qua questo non lo voglio questo non lo voglio questo non lo voglio questo qua non mi interessa questo qua il raggio non mi interessa adesso questo qua lo faccio lungo tutto così ok devo solo modificare la quota esatto per cui da 60 lo porterò a ipotizziamo questo qua sarà un 110 per esempio confermi contro il Q esatto 4 110 ma posso fare anche un 200 supponiamo ok a questo punto io devo fare questa sagoma qua qua in cima si ok a questo punto cosa faccio posso fare tranquillamente così allora prendo un offset taglio questa cornicetta qua intorno quindi io questa qua per me è un offset di ipotire è 2 mm per cui faccio così guarda eh su questa faccia faccio uno schizzo che tipo di schizzo un offset però voglio ipotizziamo tre millimetri direzione contraria no facciamo anche 5 mm ok confermi e poi che cosa voglio voglio tagliare questa corona esterna per una profondità di circa ipotizziamo otto millimetri per cui bisogna fare così allora quindi volendo posso fare così senza farlo schizzo vediamo se è vero perché non mi ricordo se no se non faccio no 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 devo fare così un po severo ecco posso fare così lui mi pre anche se io non ho disegnato lo schizzo sul bordo mi prende quest'area qua esatto per cui faccio profondità 10 ok e volendo potrei anche non so potrei anche aggiungere facciamo 15 e una rastrematura però me la fa all'interno no lascio lascio perdere lo faccio dopo confermo vedi che lui mi ha fatto la sagoma a questo punto io potrei anche vedi che se lo vedo dall'alto queste pareti sono a 90 gradi però io voglio dargli un minimo di sformo per esempio un 3 gradi tutto intorno ok allora cosa fai vai qua in funzioni sforma sformo rende le facce del modello coniche secondo un angolo specificato quindi prendo questo come funziona qua questo è il piano neutro che è questo cioè rispetto a questo piano le facce verranno sformate vi dico qui di voglio sformarlo di ipotizziamo due gradi ok le facce da sformare sono quelle intorno cioè sono questa 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 qua e questa ok a questo punto o faccio un'anteprima oppure posso fare direttamente ok confermo vedi che adesso lui se lo guardo dall'alto vedi che sono sformate di 3 gradi rispetto a questo bordo infatti se tu vai controllare abbiamo un po se curvatura no questo è analisi sformo contro alt f gli dico il piano su cui voglio vedere fare un'analisi prendo questo lui mi segnala in verde vedi l'angolo vedi questo per esempio è 90 gradi rispetto a questo piano questo è 90 gradi questo invece è tutto 3 gradi ok dopo qua posso scegliere vabbè un zero comunque questo ok x ok a questo punto io posso fargli un raggio tutto intorno raggiare questo raggiare questo come si fa semplicemente prende questa parete esatto gli do un raggio 2 ipotizziamo e poi già che ci sono gli do anche il raggio qui 2 raggio questo è una non è proprio meccanica vera e propria ma è modellazione di parti confermi poi magari ipotizza 3 ok confermi vedi che adesso lui è sformato con qua sono tre gradi a questo punto il possiamo fare anche un raggio qua intorno siccome questo bordo questo bordo sono tra di loro in tangenza se tu fai raccorda e gli dico ne scelgo uno guarda lui l'ha già fatto ne scelgo uno lui prosegue perché qua trova una tangenza e quindi ti fa tutto il raggio di ipotizziamo un millimetro e poi confermi caro e così abbiamo fatto la parte sopra ma è più o meno è dopo se vuoi fare la cosa un attimino meglio ci riesci ci vuole un attimino più di tempo per comunque il concetto è questo no se poi a questo punto io dico no voglio anche per esempio fare il punto di iniezione che è questo qua dove è iniettata la plastica qua volendo potresti fare qua vai qua sopra gli dici su questo piano il concetto sempre quello su questo piano faccio un cerchio una c faccio una un cerchio di primo la d che vuol dire diametro qua ipotizzo circa un 3 mm anzi forse facciamo anche un 5 mm ok e poi premo la j che vuol dire taglio estruso di quanto lo voglio andare giù ipotizziamo un millimetro punto 5 ok a questo punto già che sono a me piace cambiare il colore perché f poi vado qua sopra primo la u che vuol dire cambiamo il colore della parte io voglio le parti colorate così le distingo confermi ok e questo abbiamo fatto la parte sopra adesso facciamo la parte sotto la parte sotto ipotizziamo che vengo in su cioè nel senso rispetto a questa faccia qua vengo in su ok per cui allora posso fare in questo modo qua gli posso dire che leggermente rastremata ok per cui posso prendere la sagoma interna e ai diversi modi qua per fare questo fare qua però tu potresti prendere la sagoma interna estruderla per questa per questa altezza una volta che la sagoma poi già che le estrudi le strudi anche in modo rastremato vedi che è qua a qualche angolo poi la tagli con questa faccia ti faccio vedere faccio prima allora ci mettiamo qua ipotizziamo che qua tra questa superficie questa un off se di circa un millimetro e mezzo per cui su questa faccia anche due millimetri su questa faccia faccio un uno schizzo faccio un off se di due millimetri dall'altra parte ok non è bidirezionale scusa direzione contraria ok confermo abbiamo detto che io salgo per circa 15 millimetri per cui fai estrusione 15 millimetri 15 millimetri andiamo se è vero no forse non è vero facciamo anche 25 millimetri mi sembra più non ho il calibro facciamo 30 millimetri dai ok poi volendo facciamo confermi il tutto lui fa l'estrusione nota una cosa lui vedi che normalmente è abilitato questo tasto unisce il risultato significa che lui fa l'estrusione poi unisce quello che ha fatto con il precedente se tu vai a disabilitare questo lui fa l'estrusione però non unisce per cui avrai due corpi distinti comunque volendo puoi associare a dei colori diversi a questo punto noi facciamo così control 1 control 2 control 3 ecco una cosa che per esempio può capitare per esempio se tu vuoi memorizzare e richiamare velocemente una una vista supponete tu hai questa vista qua e vuoi memorizzarla così perché vuoi richiamarla quindi cosa fai premi control spazio richiami la barra dell'orientamento memorizzi gli dici nuova vista cioè ok per cui io diciamo le viste le nomino v1 v2 v3 v4 in ordine progressivo v1 ok in questo modo cosa abbiamo che un domani noi vogliamo questa vista richiamarla sia nel 3d sia nella messa in tavola richiamiamo la vista view esatto per cui fai così fai con richiami la vista v1 pam fatto ok per cui adesso noi facciamo vogliamo prendere questa e fare una f prendere questa e noi ce l'abbiamo così si ok ah una cosa però che non ho fatto e che volevo fare non una estrusione ma un'estrusione con un angolo un'estrusione rastremata ok in modo che gli imponiamo noi due gradi vedi vedi che visse dall'alto lui l'ha estruso però andato su conico di due gradi ok ok a questo punto noi cosa facciamo andiamo a cercarci una vista comoda per cui facciamo così facciamo una f premiamo con lo shift qua dentro ok memorizziamo questa vista perché ci piace quindi control spazio la chiamo v2 perché v1 era già occupata buono a questo punto io ho la v2 vedi che la v2 è qua il nome della vista che stiamo guardando a questo punto noi ce la facciamo così noi adesso provvederemo a provvederemo a tagliare a tagliare con questa superficie ok quindi noi faremo così guarda allora prendiamo questa prendiamo questo piano su questo piano noi che siamo in mezzeria vedi scusa ho sbagliato vedi che la v2 mi torna comodo adesso ok su questo piano noi siamo in mezzeria per cui facciamo così adesso su questo piano noi faremo uno schizzo ma noi adesso facciamo facciamo una possiamo fare uno schizzo di tipo una spline possiamo fare anche oppure possiamo fare questa qua dai facciamo una spline vediamo se riusciamo a fare una spline ok vado su così vado su così più o meno lo faccio così vedi questa è una spline vuol dire che è una una linea che posso governare con dei punti di controllo volendo posso mettere anche delle quote non so posso dirgli che da qua a qua io voglio imporgli per esigenze mi di progetto 18 mm sul punto oppure posso dire che da qui a qui posso imporgli un 14 mm vedi che il punto è diventato nero vuol dire che quello è un punto completamente vincolato a questo punto io gli dico bon mi faccio una mia linea di punto di rotazione ok adesso ho diverse possibilità posso combinare superfici e solidi ad esempio posso dirgli opzione 1 aspetta prima ti faccio vedere una strada potremmo fare vedere un'altra opzione 1 posso dirgli bon io voglio vado qua fuori più o meno tagliare tutto questo rosso con questa superficie con questo schizzo qua quindi faccio un taglio taglio in rivoluzione lo schizzo è aperto ah è ok perché è aperto lo schizzo aspetta un attimino ah ecco perché ha ragione mi diceva che era aperto lì per lì non me ne ero accorto io ok a questo punto ripetiamo taglio in rivoluzione taglio un modello solido effettuando un rivoluzione ok io vedi che lui rivoluziona tutto se faccio corpi selezionati adesso lui taglia siccome ho due corpi diversi lui non sa che cosa voglio tagliare di solito metto la selezione automatica però volendo io tolgo la selezione automatica e gli dico io cosa tagliare questo perché se dico questo non è anche lo interseca dico io cosa tagliare decido io tolgo la selezione automatica e gli dico taglia questo ok vedi quindi qua adesso cosa abbiamo fatto abbiamo semplicemente cosa che sembrava un attimino più difficile però vedi che abbiamo semplicemente preso e tagliato poi magari possiamo imporre qua se cosa noi un diametro perché noi adesso questo è un diametro casuale però noi vogliamo avere lì un diametro ben preciso per cui facciamo andiamo qua andiamo qua modifica eh scusa scusa andiamo su V2 mi piace gli dico premo la D quota intelligente da qui da qui vedi che se sto al di qua eh della linea della linea di mezzeria mi dai il raggio ma se vado oltrepasso la linea di mezzeria mi dai il diametro io qua comando io dico vabbè voglio un diametro di 25 ok a questo punto tutto il resto è blue perché in questo momento non mi interessa però volendo vedi che lo puoi eh puoi decidere in fase di si puoi quotare da qui a qui però dopo una volta che tu gli impuni questa relazione si fissa cioè ogni volta che cambi la lunghezza lui però ti rispetta questa quota ok a questo punto noi possiamo dire ok confermi ok a questo punto noi possiamo fare che cosa fare che cosa ci serve ah siamo arrivati qua facciamo questo ok che è un cilindretto cavo per cui allora possiamo fare così prendiamo questa su questa faccia ok su questa faccia facciamo uno schizzo gli diciamo mi ricavo dal bordo utilizzando questa funzione converti entità converte i bordi del modello selezionato o l'entità di schizzo in segmenti dello schizzo cosa significa questo che io sto convertendo il bordo del solido in uno schizzo però lo leggo al bordo in questo modo se un domani mi cambia la geometria questo rimane legato ok a questo punto gli dico confermi poi vado premo la barra mi mette normale allo schizzo premo c ok che vuol dire cerchio faccio un altro cerchio e poi vado qui e gli dico premo la d ok e gli dico che cosa gli dico che questo io voglio uno spessore pari a 2 mm lo estrudo di quanto da qua quanto sarà 10 mm ipotizziamo per cui fai estrudi quanto 10 mm io normalmente preferisco unire alla fine ma perché non sei obbligato volendo potete fare unisci lui ti unisce questo con questo normalmente però vi è un po' arbitrare la scelta preferisco una volta che io me lo sono modellato preferisco mettere l'ultima funzione unisci il tutto non sempre dipende dal contesto per cui allora a questo punto noi possiamo fare così abbina vedi che adesso io ho tre solidi 1 2 3 a questo punto volendo potresti incolorarti lo vai sopra qui l'icona cosa servono queste icone guarda qua questo si apre innanzitutto qua si apre in questo modo si apre qua chiudi e qua apri il significato di questo è questo è il corpo e qua sono le sue proprietà ad esempio questo te lo fa apparire e scomparire è fatto caso vedi che adesso è trasparente vuol dire che c'è ma non lo vedi nascosto esatto qua invece gli cambi il colore per cui vai qua metti verde qua invece comanda la trasparenza se tu clicchi lui te lo fa dire in trasparenza per esempio dentro può esserci qualcosa adesso sono dei tasti on off questi qua vuol dire che una volta che premi una seconda volta esatto a questo punto io cosa faccio voglio unire questo corpo con questo corpo con questo con questo per cui faccio unisci io ce l'ho come ctrl u che vuol dire abbina vedi ctrl u il primo corpo il secondo corpo e il terzo corpo lui li infonde tutti insieme vedi che la cartella dei corpi è sparita adesso perché è un corpo unico il colore lo posso scegliere qua fai aspetto aspetto verde insomma adesso noi cosa faremo faremo quest'altro faremo la punta ok a questo punto per fare la punta semplicemente la possiamo fare in 3-4 maniere diverse vediamo un po' come posso fare velocemente poter prendere un rettangolino estruderlo sul piano e dopo tagliarlo posso fare così guarda hai diverse scelte io per esempio qua in questo caso mi sembra che forse la scelta più rapida sia questa fai un bel rettangolino lo tieni qua vedi che adesso io se clicco qua lui lo tiene vincolato al bordo ok a questo punto premo la D premo questo diciamo che lo vedo dall'alto per cui per me questo qua è ipotizziamo un 3 mm forse anche magari forse anche 5 magari così in più ok a questo punto io me lo estrudo per questa altezza diciamo che posso dire estrudi però non sempre qua ci sono diverse scuole di pensiero ad esempio o gli do una lunghezza fissa oppure gli do una lunghezza che dipende dalla superficie questa perché io posso dirgli voglio una altezza non cieca non fino al vertice ma voglio un'altezza che dipende da un'altra superficie offse dalla superficie per cui cosa fa prende questa superficie ok gli dico che inverti offset dall'altra parte per un attimo dall'altra parte ho sbagliato scusa di qua ok perché io voglio questo offset rispetto a questa superficie qua io voglio stare su mettiamo 15 mm ok a questo punto di qua non mi interessa quindi mi sembra che ci siamo adesso confermo il tutto e poi unisco il risultato no no posso fare meglio ok quindi non unire niente confermi la faccia finale non può essere protemile ok motivo motivo aspetta un secondo è dall'altra parte scusa non capisco per quale motivo non mi fa l'office della superficie eeeh ah forse perché aspetta un secondo eh faccio così faccio una estrusione faccio così ok e gli dico eeeh fine alla superficie no office alla superficie questa superficie qua e dico conferma la faccia finale non può essere protemile ahhh sai perché perché lui non va o non oltrepassa devo dargli direzione 2 allora probabilmente e poi glielo dall'altra parte non capisco per quale motivo non me lo dà eeeh proviamo a dargli una direzione faccio una cosa eeeh voglio dargli un'asse io mi creo allora visualizzo gli assi provvisori gli assi provvisori sono gli assi che esistono quando hai delle cose sferi delle cose cilindriche voglio fare un altro tentativo ho fatto un'estrusione allora ripetiamo un secondo perché allora prendo questo schizzo qua faccio un'estrusione eeeh la direzione è questa gli dico l'asse perché voi sei sicuro che lui vada in quella direzione vado oltre questo ah no probabilmente non unisco nulla eeeh allora se facessi così sicuramente lo fa ma io voglio invece andare farlo fino a superficie no offset dalla superficie quale superficie rispetto a quella superficie eeeh inverti offset per qualche strano motivo non lo so non lo fa ah adesso l'ha fatto si adesso l'ha fatto quindi ah voleva probabilmente l'asse l'asse voleva la direzione probabilmente non sono sicuro infatti se adesso noi andiamo a misurare lui terrà sempre 20 mm rispetto a questa faccia infatti se adesso noi misuriamo cosa misuriamo misureremo sicuramente che tra questa faccia e questa faccia quanto abbiamo avremo 20 mm 20 mm ok a questo punto facciamo ci mettiamo sulla giro vedi che adesso mi metto normale la faccia così se prima una volta vedi qua prima volta va dall'altra parte a questo punto io lo voglio vedere così per cui premo qua primo shift anzi no primo control vado dall'altra parte shift e control insieme lo ruoto ok mi piace questa vista la memorizzo perché a me torna comodo vederlo così sono arrivato v2 e vado allora a v3 confermo confermo mi piace cambiare il colore a questo perché per me è un pennino per cui vado qua sopra vado qua sopra faccio un aspetto vado in rosso e confermo il tutto faccio un control s e un control q a questo punto io potrei fare così potrei tagliarmela in questo modo tagliare qua venire giù così in modo da sagomarmi questa zona qua e poi lo giro e vado a tagliarmi in questo modo chiaro? per cui allora cominciamo su questa faccia no scusa no questa che è il piano di mezzeria a me piace il piano di mezzeria per cui faccio su questo piano faccio una L che vuol dire linea se apriamo la L lui su questo piano in automatico apre lo schizzo e si posiziona sul comando linea per cui vado qui potrei fare così che questo e questo e poi vado giù non so quanti gradi sarà non so quanti gradi sarà però qua lui mi darà ok forse così lo taglia lo stesso io seleziono solo questo schizzo e gli dico D dimension gli impongo che da qua a qua ci deve essere un angolo di 20 gradi dopo gli impongo che da qua a qua ci deve essere un angolo di 50 ok a questo punto posso imporgli che da qua a qua eh ciao scusa posso imporgli qua sono 6 mm 3 ok a questo punto gli dico taglio vedi che adesso se faccio taglio lui mi dice quale parte vuoi che io ti tagli questa o questa vedi adesso ti indica la freccia la zona che verrà tagliata io gli dico quale corpo non metto selezione automatica perché preferisco dirgli io cosa tagliare preferisco vedere io controllo la situazione questo corpo qua voglio tagliare e adesso gli dico poi posso anche scegliere l'anteprima non me la da passante lo faccio passante di qua e passante di là faccio un taglio passante non cieco in modo che lui prosegue confermo vedi faccio un'anteprima e lui mi ha tagliato mi sta bene poi confermo adesso richiamo la vista precedente la v3 perché mi piace vederlo così ok a questo punto vedi che devo dargli qua diciamo una devo tagliarlo qua no devo dargli uno uno smusso ok per dargli quello smusso hai diverse possibilità allora o fai brutalmente qua uno smusso così ipotizza 5 mm no forse un po' troppo ho esagerato 1 mm ok si distanza distanza puoi dargli anche non so 1 mm per 1 mm è 45 gradi però tu questa distanza qua la puoi cambiare adesso è 1 e 1 vedi vedi che ti ho messo qua perché tu gli dici o distanza angolo oppure distanza a distanza in questo caso lui ti indica che questo 1 è questo si vedi se io qua al posto di mettere 1 gli metto 2 vedi che lui aumenta questa distanza cioè dal bordo qui troverai 2 infatti si fa così vedi che pam ok ok a questo punto già che ci sono posso utilizzare la stessa funzione dove qui dentro gli metto sia questo bordo ti faccio vedere quello che dicevo prima giusto per ricordare vado in V while frame apro questo e memorizzo questo senza girare senza essere obbligato a girare il solido ok a questo punto fai confermi ritorni con la Q in shading ok e dopo se non ti piace puoi dire no non mi piace poi vai qua clicca due volte e fai un 3 ok poi a me non piace una volta fatto non piace vedere gli assi per cui vai visualizza vedi che c'è assi provvisori shift i allora impara a usare gradualmente i short esatto quindi fai shift i shift i sono degli comandi on off shift i vedi ok a questo punto noi possiamo fare siamo pronti per fare non una messa in tavola ma siamo pronti per fare un accoppiamento tra le due parti che abbiamo creato per cui facciamo io premo H che vuol dire H horizontal vedi che è horizontal a fianco ok a fianco creo che cosa adesso creo un nuovo assieme dove gli butto dentro le due parti però il grigio a me non piace per abitudine preferisco andare qua sopra andare qua sopra e farlo giallo confermo ctrl s apro un nuovo assieme quindi facciamo ctrl new assieme confermi gli butto faccio x perché preferisco faccio ctrl uno qua ctrl uno qua a questo punto questo è l'assieme queste qua sono le parti vedi a questo punto posso dirgli bon prendo questo lo butto qua nell'assieme prendo l'altro e lo butto dentro nell'assieme volendo potrei buttarlo anche qua se lo butto qua qual è la differenza tra buttarlo nell'area grafica e buttarlo qua sull'albero che se lo butto nell'area grafica lo posiziono esattamente qui se invece lo butto nell'albero lui me lo posiziona esattamente con lo stesso zero che aveva nella parte e a volte questo ti è molto comodo perché così puoi crearti nuovi assiemi utilizzando gli stessi zeri della parte dipende dal contesto a questo punto io lo salvo come assieme prova ricostruire sì mi sta bene prova anche io ne ho sbagliato potevo fare anche vabbè ormai andate così prova quindi meglio scegliere nomi diversi perché dopo quando fai le messe in tavola se vedi che il nome della parte questo è uguale al nome dell'assieme in alcuni casi ti è utile però normalmente è meglio avere nomi diversi sia il nome dell'assieme sia il nome della parte a questo punto vedi che il primo è fisso vuol dire che il primo la prima parte che butti nell'assieme è sempre fissa dopo fai prova 2 questo col tasto destro girano lo spazio come vuoi a questo punto tu dici buono io cosa voglio fare voglio accoppiarmelo come fai posso usare esatto control hai diverse possibilità o usi una faccia cilindrica oppure addirittura potresti anche usare l'asse se tu fai assi provvisori vedi che qua hai degli assi questo qua ad esempio però devi stare attento a scegliere l'asse giusto esatto questo e ipotizza pure questo prima con il control chiaramente poi gli dici che sono coincidenti poi fai ancora shift ecco non mi piace questa cosa qua shift t shift t a questo punto gli posso dire che cosa che questo adesso io non so se andrà esattamente lì perché probabilmente sarà non corretta la cosa questo e questo perché l'ho fatto in modo spannometrico questo va contro questo la battuta e poi vedi che adesso lui si gira però tu lo vuoi bloccare come fai per bloccarlo utilizzi i piani perché non hai non hai devi fare devi fare così guarda allora ti faccio una cosa interessante vedi questi qua sono i piani di ogni parte io ne visualizzo uno vedi che ha cambiato il colore però adesso tu non ti sei accorto di niente se tu il piano destro ricordati l'altro piano qua vado col piano destro che è questo ok a questo punto vedi che tu non vedi niente però vedi il colore qua è diverso qua è trasparente qua è trasparente qua è giallino cosa vuol dire questo che se tu li abiliti la visualizzazione dei piani vuol dire che se tu abiliti la visualizzazione dei piani cioè questo ctrl i lui ti fa vedere se fai ctrl i vedi che adesso li puoi vedere si vedi ctrl i e se tu li vedi puoi selezionarli per cui vedi che ti gira si puoi dire che tenendo premuto il tasto ctrl premi questo premi questo e gli dici coincidente e no ho sbagliato scusa questo e questo coincidente lo giro ok a questo punto noi facciamo un ctrl s lo abbiamo completamente vincolato vedi e dopo possiamo magari mettere questo in trasparenza giusto per vedere se qua chiaramente ci saranno delle collisioni sicure perché ok perché non abbiamo fatto le cose precise precise qua per esempio possiamo aumentarlo vedo che c'è una collisione ecco il 3d è bello anche aumenti la quota aumenti la quota non so vedi che vai in collisione tu puoi fare così fai così la quota era questa normalmente o usi questo sistema cioè le quote oppure ti faccio vedere un altro sistema dopo non utilizzando le quote ma utilizzando la modellazione direttamente sul solido con sposta faccia taglia non più basata sugli schizzi ma basata sulla geometria per cui qua puoi fare 80 abbiamo aumentato di 20 mm vedi ctrl v vuol dire salva e chiudi e di là aggiorna vedi qui adesso cosa abbiamo abbiamo che questo questo qua lo mettiamo in trasparenza ok è chiaro si e quindi abbiamo fatto il nostro diciamo pennarello salviamo chiaro ok ok